Abbattuta anche l'ultima barriera anagrafica. Da domani, sabato 5 giugno, a partire da mezzogiorno, nelle Marche saranno aperte le prenotazioni per i vaccini anti-covid anche alla fascia d'età compresa fra i 12 e i 39 anni. L'apertura dello slot era atteso per ieri dai 16 anni in su, ma tarda di un paio di giorni allargata anche alla fascia tra i 12 e i 15 anni dopo l'ok alla somministrazione di Pfizer in questa fascia giovanile. È dunque destinata a salire la quota di marchigiani che ha ricevuto la prima dose. Attualmente si parla del 41% della popolazione con un 22% che ha pure completato il richiamo. Si continuerà a prenotare online l'appuntamento che verrà assegnato nei punti vaccinali, almeno per il momento, perché il prossimo step sarà quello delle vaccinazioni in farmacia, 200 quelle che hanno aderito in regione alle quali dovrebbero essere assegnate a breve 15.000 dosi. Altre 15.000 andranno alle aziende riconosciute come hub abilitati a vaccinare i propri dipendenti, categorie aziendali per le quali ci sarà il via libera da lunedì. Va avanti la campagna di vaccinazione parallelamente ai riscontri positivi su una pandemia che nelle Marche, per il secondo giorno consecutivo, ha inanellato un confortante zero alla voce d'eccessi. I contagi rimangono contenuti a una percentuale del 6% di tamponi positivi con il report quotidiano che ha registrato a tal proposito 2.540 nuovi tamponi effettuati di cui 1.160 nuove diagnosi, 71 i casi positivi in regione di cui 26 in provincia di Pesaro Urbino. Un andamento che, secondo i parametri attuali, porterebbe le Marche a diventare zona bianca il prossimo 21 giugno.